Ormai è ufficiale il GP di Gran Bretagna si svolgerà a porte chiuse. A comunicarlo è il boss del circuito di Silverstone, Stuart Pringle, in una nota che recita Sono estremamente deluso di dirvi che il Gran Premio di Gran Bretagna 2020 non sarà organizzato davanti al suo pubblico. Il nostro dovere di proteggere la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte ci ha convinto a scegliere questa strada. Stiamo lavorando per organizzare l'evento a porte chiuse, verificandone la fattibilità. La comunicazione poi proseguirà assicurando i possessori dei biglietti già acquistati, che potranno decidere se procedere per un rimborso totale o se trasferire la prenotazione direttamente al 2021. Gabriele Gravina si è espresso sulla prospettiva di una ripresa del calcio, esternando un ottimismo che sembra giustificato dalle ultime comunicazioni dal governo. «Abbiamo sempre affermato di voler ripartire quando ci sarebbero state le condizioni e l'orizzonte prospettato dal governo ci consente di farlo», ha affermato il presidente della FIGC. «Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile. L'unica che persegue l'interesse generale del sistema è quello più complesso dello sport italiano». Gravina ha poi spiegato che in attesa della ripartenza la Federcalcio si sta consultando con il Comitato Tecnico Scientifico per mettere a punto un protocollo rigoroso che consenta di riprendere le attività in totale sicurezza. Anche il Barcellona segue con attenzione le gesta di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia piace a tutte le grandi italiane e inizia ad attrarre stimatori anche all'estero. Secondo il mondo deportivo, però, la valutazione di 60 milioni di euro fatta dal presidente Cellino è ritenuta troppo alta dai dirigenti Blaugrana. Il presidente del Brescia è stato chiaro. Diversi importanti club d'Europa si sono interessati a lui. Sarà la sua scelta prima della nostra. Non ho ancora approfondito le negoziazioni. Gli ho promesso che sarà una sua scelta prima che nostra. Il mio sogno è che rimanga in Serie A e che possiamo contare su di lui per un altro anno». Ancora ferma in box come le altre squadre italiane, l'Inter pensa al mercato e a rafforzarsi per il prossimo anno. In seguito a gennaio Olivier Giroud rimane ancora un possibile obiettivo. Sull'attaccante francese del Chelsea ci sarebbe anche l'interesse della Lazio e il fatto di poterlo avere a parametro zero fa di lui un acquisto molto ambito. Giroud sarà il successore di Sanchez. Il cileno infatti rientrerà al Manchester United dopo il prestito, mentre per quanto riguarda gli altri attaccanti l'unico certo di rimanere è Lukaku. L'Inter quindi non vuole perdere l'occasione di prendere Giroud a titolo gratuito, con il francese che ha lasciato intendere che la destinazione dell'Erazzurra sia per lui molto gradita.